Il mio cane ha morso ed ora me lo portano via. Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Oggi ci addentriamo in un problema che purtroppo colpisce molti proprietari di cane. Quando il nostro cane morde qualcuno ci pervade un senso di fallimento che ci fa sentire la causa dell'episodio. In realtà ha poco senso circoscrivere la valutazione al solo fatto, ma dobbiamo allargarla per trovare le cause che hanno spinto il nostro cane a mordere. Ragionare è già un primo passo per poterlo aiutare. Scrivo in maniera diretta perché quando c'è un problema di aggressività penso che, come dico sempre ai miei allievi, bisogna mantenere le famose palle nel ghiaccio e agire e non reagire. La reazione porta sempre a delle azioni dirette e non ragionate, che in questo caso specifico sono fondamentali. Non sto facendo questo video per entrare nei meandri dei motivi per i quali un cane ha morso, ma per rispondere ad una domanda che spesso i proprietari mi pongono. Quando un cane morde non è vero che viene soppresso d'ufficio. Nella mia carriera ho sentito parlare poco di soppressione in caso di morsicatura, ma voglio parlare di ciò che conosco e non di ciò che potrei pensare. Quando un cane morde una persona la variabile che fa la differenza è l'entità del danno. La vittima dovrà recarsi al pronto soccorso per farsi medicare e per fare un'antitettanica necessaria dopo una morsicatura e alla dimissione avrà in mano un referto con una relativa proniosi. Se la proniosi non è superiore ai sette giorni, il cane viene segnalato all'ATS di competenza e poi controllato periodicamente da un veterinario. Mentre se la proniosi è superiore ai sette giorni e può arrivare anche alle tre settimane, il cane oltre ad essere segnalato dovrà svolgere un corso di rieducazione comportamentale con l'ente veterinario, alla fine del quale verrà riabilitato socialmente. Questo è quanto è decretato. Il resto, per quanto mi riguarda, non corrisponde a fonti ufficiali e quindi a mio avviso poco affidabile. Spero che questo video vi possa essere stato utile. Continuate a seguirci sui nostri canali social e sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti.